In Europa è scattato l'allarme per la super gonorrea, un'infezione sessualmente trasmessa che mostra una crescente resistenza agli antibiotici. Secondo un rapporto delle CDC, i casi di gonorrea resistente sono in aumento, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante e di aggiornamenti nelle linee guida terapeutiche. Nel 2022 sono stati segnalati 70.881 casi di gonorrea nell'UE e nello spazio economico europeo, con un incremento del 48% rispetto al 2021, rappresentando il tasso più alto dal 2009. Le CDC ha rilevato due ceppi di neisseria gonorrea resistenti al ceftriaxone, l'antibiotico principale per la cura della gonorrea, con una resistenza anche ad altri farmaci. Inoltre, la resistenza all'azitromicina è salita dal 14,2% al 25,6% e quella alla ciprofloxacina dal 62,8% al 65,9%. Sebbene la resistenza al cefixime sia ancora bassa, 0,3%, il monitoraggio continuo è essenziale per prevenire la diffusione internazionale di ceppi resistenti. Nonostante la maggior parte delle infezioni siano ancora curabili, l'aumento della resistenza agli antibiotici rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica. Le CDC sottolinea l'importanza di una sorveglianza antimicrobica rafforzata, la revisione periodica delle linee guida terapeutiche e lo sviluppo di nuovi antibiotici. Inoltre, è cruciale migliorare la prevenzione della gonorrea attraverso sesso sicuro, accesso ai servizi diagnostici, cooperazione internazionale e test regolari per le infezioni sessualmente trasmissibili.